Buongiorno, eccoci a un nuovo appuntamento. Oggi parliamo del distacco dei lavoratori italiani che si recano a lavorare in uno degli Stati della Comunità Europea o viceversa, lavoratori residenti negli Stati facenti parti della Comunità Europea che si recano a lavorare in Italia. Ma guardiamo nello specifico qual è la legislazione applicabile sotto l'aspetto previdenziale e assicurativo sociale dei lavoratori che si spostano proprio all'interno della Comunità Europea. Tutto quanto questo è soprattutto per facilitare la libera prestazione di servizi da parte dei datori di lavoro, soprattutto per favorire la libertà di circolazione dei lavoratori e semplificare gli addempimenti amministrativi. Infatti il certificato di legislazione applicabile noto meglio come certificazione A1 viene rilasciato soprattutto nel caso in cui un lavoratore si recchi temporaneamente a lavorare in uno Stato membro dell'Unione Europea, diverso da quello di provenienza, oppure nell'ipotesi in cui lo svolgimento dell'attività lavorativa si svolge in più Stati membri. In questo caso parliamo appunto di lavoro contemporaneo ed è il caso dei trasportatori per esempio che si spostano anche in un determinato lasso breve di tempo in più Stati. In questo caso appunto la certificazione applicabile con il modulo A1 viene rilasciato proprio dalla nostra sede Inps. Ma appunto per quali categorie occorre inoltrare la richiesta? Ovviamente per tutti i lavoratori dipendenti che vengono mandati da un'azienda che ha residenza legale sul territorio nazionale o anche per i lavoratori autonomi, artigiani, liberi professionisti che si recano per la propria attività a svolgere il lavoro in uno Stato membro della Comunità Europea. Ecco qui vedete anche il modulo cartaceo che viene rilasciato ai lavoratori e che l'Inps provvede ad inoltrare in maniera telematica alle sedi delle istituzioni previdenziali degli altri Stati membri. Come devono essere fatte le domande? Le domande per un distacco dei lavoratori dipendenti possono essere inoltrate esclusivamente dai datori di lavoro o dai soggetti delegati e che cosa devono contenere all'interno di queste domande che devono essere inviate tramite i canali telematici? Le generalità del lavoratore, il luogo di svolgimento del lavoro nello Stato estero, il periodo interessato dal distacco che non può essere superiore a 24 mesi, la scelta della legislazione applicabile e i dati relativi all'Inps di competenza. Il modello invece per i lavoratori autonomi possono essere richiesti direttamente dall'interessato e soprattutto deve essere inviato attraverso i sistemi di posta elettronica certificata o altrimenti una raccomandata con avviso di ritorno o direttamente presso gli sportelli dell'Inps dove c'è la residenza del lavoratore. Ma quanto può durare un distacco? Soprattutto dobbiamo tener conto di un limite stabilito dalle disposizioni comunitarie che è di 24 mesi esclusivamente per le situazioni di distacco di carattere occasionale e temporaneo in un solo Stato membro, oppure può avere durata illimitata, ossia per situazioni di lavoro in più Stati membri e la certificazione rimane valida fino a quando la situazione del lavoratore non subisce variazioni. Per ogni tipo di approfondimento vi rimandiamo ai contenuti del sito www.inps.it oppure contattare il nostro contact center al numero 803 164. Grazie per l'attenzione, al prossimo appuntamento, arrivederci!